Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video Oggi voglio parlarvi di un progetto che reputo molto interessante Che potrebbe avere un buon caso d'uso per il futuro L'ho analizzato, l'ho studiato nei particolari In questo video voglio parlarvi quali sono i vantaggi di questo progetto Quale differenza potrebbe apportare al mondo crypto Soprattutto c'è anche un token che si chiama LPX Che possiamo acquistare in fase di pre-sale E piano piano ci arriviamo Prima di iniziare però ragazzi tengo a specificare che io non sono un consulente finanziario Prima di investire nei mercati finanziari Fate le vostre ricerche e investite solo soldi che potete permettervi di perdere Detto questo distruggete il tasto di mi piace Basta un click al gioco è fatto E se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale Per non perdervi nulla Ora iniziamo subito col progetto Questa è l'home page come ben si vede Voglio spiegarvi cos'è il progetto che si chiama Launchpad XYZ E soprattutto voglio dirvi quali sono le features principali Vediamo che come scritto qui vogliono creare una piattaforma Che permetta a tutti i trader di generare più profitti possibili Quindi di creare ad esempio sfruttando l'AI La tecnologia che sta spopolando ultimamente Di avere un sentiment, notizie, approfondimenti di mercato In tempo reale soprattutto a portata di click Vogliono creare poi anche un trading edge Con tutte le maggiori criptovalute Creeranno poi anche un terminal per fare trading Con i providers migliori sul mercato Per quanto riguarda la liquidità E infatti come viene scritto qui Questa qui sarà la piattaforma che permetterà di fare trading In modo molto molto semplice Assomiglia molto a Coinbase Abbiamo anche questa sezione che permette di Come scritto qui Non perdersi i famosissimi pump delle criptovalute A volte anche di percentuali incredibili Perché permetteranno tramite questa piattaforma Sfruttando anche l'intelligenza artificiale Di avere tutto a portata di mano Per quanto riguarda notizie, aggiornamenti del mercato cripto Quindi basterà solo aprire la piattaforma E poi in pochissimi click si rimarrà aggiornati Su quello che sta per succedere Un po' diciamo come vediamo in questo caso qui Però ci sarà possibilità di essere formati Perché tramite l'intelligenza artificiale poi Verranno inviate notizie in tempo reale Ci sarà anche poi una parte dedicata all'apprendimento Per quanto riguarda il mondo cripto La psicologia del trading sulle criptovalute Come ben si vede qui ci saranno vari articoli Anche notizie del mondo cripto Per rimanere sempre aggiornati Sempre ancora ripeto In un'unica piattaforma Lanceranno anche il launchpad quotient Che permetterà diciamo Tramite un sistema innovativo Sfruttando sempre credo L'intelligenza artificiale E questo permetterà di analizzare i dati sui social I dati finanziari di mercato Per fornire una classifica di fiducia Per diverse risorse digitali Quindi in poche parole ragazzi Verrà creata una schermata del genere Con varie statistiche Che ci permetteranno di capire Se un progetto è valido o meno Ad esempio abbiamo la price volatility Il change del price in ultime 24 ore Abbiamo anche ad esempio la possibilità Di vedere quanti tweet sono stati fatti Negli ultimi 24 ore L'Honey Pot E' davvero interessante quello che vogliono creare E come dicevo prima ci sarà anche Apollo AI Che permetterà di avere tantissime funzioni E informazioni in tempo reale Per completare la nostra analisi Di un progetto specifico Ma adesso passiamo anche al token ragazzi Perché come dicevo prima C'è possibilità di acquistare il token in pre-sale Per adesso sono riusciti a racimolare all'incirca 1.279.000 USDT La prima phase di pre-sale si concluderà tra poco Ad 1.550.000 Dove il token LPX si può acquistare A 0.0445 Possiamo acquistarlo come tutti gli altri token Tramite Ethereum Tramite USDT Oppure tramite carta Ovviamente ragazzi vi conviene Secondo me sfruttare le crypto Perché tramite la carta ci sono commissioni abbastanza alte Basta scambiare poi i nostri Ethereum In questo caso USDT E riceviamo i nostri LPX Basta collegare il wallet qui in alto a destra Davvero semplicissimo E il gioco è fatto Ripeto che stiamo parlando di un progetto molto rischioso Quindi fate sempre le vostre ricerche Poiché sono progetti che possono avere grandi rendimenti Poiché ripeto ancora Sono progetti innovativi Stiamo entrando ai primi step Ai primi livelli di accumulo del token E potrebbe essere poi Un buon acquisto per il futuro Anche se potreste anche perdere i vostri soldi Come tantissimi altri progetti Poiché ripeto Siamo nelle fasi iniziali Il progetto si sta sviluppando Però per quello che vogliono fare È davvero interessante Se scorrete il sito Vediamo anche che il team È presente su LinkedIn Quindi mettono la faccia Sono persone che hanno creato il progetto Che esistono davvero C'è possibilità anche di visualizzare i profili Sul LinkedIn Possiamo quindi avere una sicurezza in più Possiamo anche visualizzare qui ragazzi Tramite Medium la versione Alpha del Launchpad Possiamo dare anche uno sguardo qui a Roadmap ragazzi Infatti possiamo ben vedere che nel Q2 Hanno lanciato il pre-sale Il contratto del token Tutte queste cose importanti Nel Q3 quindi lanceranno il Launchpad La Token Directory Il Metaverse Library Perché ci saranno anche degli NFT Ci sarà un Gaming Hub Che è molto interessante Quindi ci sta tanto che bolle in pentola Fino al Q4 Abbiamo anche poi la prima fase iniziale del 2024 Quindi è un progetto che secondo me vale la pena seguire da vicino E ci sono anche le Frequently Asked Questions qui in basso Quindi possiamo sapere tantissime altre cose nello specifico Possiamo anche ad esempio mettere in staking 10.000 LPX per 90 giorni Ricevere sconti sulle Trading Fees Possiamo avere un accesso immediato al Mint dell'NFT Quindi tantissime cose interessanti E come al solito ragazzi Vi lascio tutti i link Qui in basso in descrizione per dargli un'occhiata Fatemi sapere cosa ne pensate Se avete qualche dubbio Lasciate un commento qui in basso Cerco sempre di rispondervi E come al solito ragazzi Un mi piace per far sì che questo video venga visto da più persone possibili E se non siete iscritti Iscrivetevi assolutamente al canale Detto questo Noi ci vediamo con la prossima avventura Ciao a tutti ragazzi E buon weekend